Una vittoria della futura davvero all'ultimo centimetro con coach Ben Dunne, insomma è stata una battaglia vera, avete pagato una partenza forse un po' così così perché poi siete riusciti davvero a venire fuori e a conquistarvi con grande merito questo tie break. Sì, noi veniamo da un periodo non facile per noi perché è la terza sconfitta e veniamo da due brutte sconfitte giocate senza la capacità di reagire o di mantenere un livello di gioco alto come magari siamo riusciti a fare in altre partite perse. Quindi diciamo che siamo venuti qui non in situazioni tranquille ma con una gran voglia di riscattarci. Cosa che è avvenuta a metà, abbiamo trovato la squadra di Busto che ha subito spinto molto al servizio, ha lavorato molto bene in situazioni di muro difesa mettendoci in difficoltà e portandosi sul 2-0. E questa cosa qui, ti ripeto, di positivo è l'essere riusciti a impattarle riuscendo a ritirare fuori un po' di carattere e un po' di ordine che è quello che c'era mancato nelle partite precedenti.